Questa mattina gli operai incaricati dal comune hanno cominciato la rimozione del gazebo di fianco allo storico locale che tante polemiche sta suscitando a Piacenza. Si tratta infatti di una struttura che, così come conosciuta oggi, esiste dal 1930, ma addirittura, secondo una cartografia austriaca dal 1834, in quel punto esatto sorgeva l'osteria del baracchino, ha detto l'onorevole PD Marco Bergonzi, deciso a salvarlo dopo che pare per le inadempienze burocratiche del titolare sarebbe ferito dal mirino dell'amministrazione comunale. Questo locale, infatti, anni fa, era uno dei tre in cui tanti piacentini, oggi adulti, trascorrevano il loro tempo libero nella zona di Piazzale Genova, un simbolo dunque, un luogo da salvaguardare, come dimostrano anche le oltre 1200 firme raccolte dal titolare per salvare la struttura dalla demolizione. Nel frattempo, l'assessore al commercio, Giorgia Buscarini, ha respinto l'offerta del gestore Bertorelli di donare la struttura all'amministrazione comunale, perché ha detto che in questo modo sarebbe come accollare i costi della demolizione alla collettività. L'amministrazione dunque continua per la propria strada e, dopo aver fatto mettere i sigilli al chiosco ieri, oggi ha cominciato con la rimozione del gazebo. Secondo il consigliere regionale Foti, però, nell'eseguire i lavori, non sarebbero state rispettate le norme previste dalla legislazione in materia di lavori in altezza, oltre che altre mancanze. Nel frattempo è stata convocata in municipio, per venerdì pomeriggio, su richiesta di un gruppo di consiglieri comunali, la Commissione Affari Istituzionali per affrontare la questione baracchino e, più in generale, la vicenda delle morosità di alcuni esercenti nel pagamento delle imposte comunali. Ma c'è anche la possibilità che venerdì il baracchino non ci sia più. Grazie.